Musica Guardate che panorama vi propongo oggi, questa sì che è la ricetta della felicità e anche un regalo per queste puntate speciali che noi dedichiamo e stiamo dedicando al compleanno così importante di Mulino Caputo, 100 anni Chi l'ha detto che a un compleanno si deve mangiare solo una torta? Quella di oggi è una ricetta speciale, si tratta di un primo piatto Chi ce la prepara? Guardate un po' Alessandra Calvo, probabilmente la sua forza è nei capelli Una chioma bionda, folta e indomabile, proprio come la sua passione per la cucina che è nel suo DNA e l'accompagna fin da bambina Musica E beh, io adesso il panorama ce l'ho di fronte anziché alle spalle ma qui accanto a me ho questo panorama, lei e Alessandra Calvo ve l'abbiamo presentata con una passione sfrenata per la cucina, ne ha fatto quasi il suo lavoro insomma No, direi, toglierei quasi, nel senso che ormai insomma sono chef d'anni anche perché insomma ho frequentato anche un po' di cucine stellate poi mi sono anche in qualche modo formata a parte i miei corsi di cucina quando ero ragazza, poi ho iniziato a 16 anni quindi prestissimo e poi ho una mamma che ha fatto la scuola chef un papà che ha avuto ristoranti, quindi insomma diciamo che c'è una grande tradizione Di famiglia E poi ho fatto anche un master con Marino Niola, sono stata a Gennarino Esposito insomma ho fatto un po' di cose Wow, ma allora noi oggi non abbiamo una telespettatrice qualunque che ci prepara la sua specialità ma abbiamo una vera professionista Alessandra, tu hai accennato alla tradizione e oggi in realtà tu la tradizione l'hai inserita in un raviolo Sì, devo dire, questa è stata una mia intuizione di parecchi anni fa l'ho presentata per la prima volta in Rai nel 2008 e all'epoca uscivano tutti questi ravioli, tortellini di queste marche famose che non citiamo ovviamente e dentro c'era un po' di tutto, carciofi, funghi, varie allora mi è venuta questa idea, cioè l'idea di fare un raviolo naturalmente grosso e consistente perché c'è bisogno di assaporare Quindi quasi monoporzione Sì, io devo dire lo servo monoporzione e all'interno c'è la salsa più famosa, una delle più famose di Napoli Una delle più profumate anche Che è la genovese Allora Alessandra, siamo subito operative Io direi di partire dalla ricetta del raviolo voi come sapete adesso la vedrete in sovrimpressione per questa ricetta noi utilizziamo della farina doppio zero del mulino caputo ad Alessandra piace anche molto l'idea di fare un mix con la semola sempre caputo Voi sapete che caputo ha anche la sua farina pasta fresca gnocchi ma quella che è la sua ricetta è fatta con questa doppio zero E' un po' di semola Quindi leggiamoli insieme Gli ingredienti saranno allora 300 g di farina doppio zero del mulino caputo oppure se volete seguire il consiglio di questo mix utilizzerete 200 g di doppio zero e 100 g di semola sempre caputo Un solo tuorlo ma attenzione l'albume lo dovete conservare per la sigillatura dopo ci spiegherà bene Alessandra acqua quanto basta e poi sale e pepe Il ripieno lo vedremo dopo Io direi che adesso ti aiuto Possiamo anche sgombrare il tutto Allora sgombriamo il campo Sì perché nel frattempo poi quello che non abbiamo detto Aspetta te l'ho fatto sgombrare Ma facciamole vedere queste meravigliose cipolle La genovese quindi si fa? Con le cipolle Io utilizzo quelle di Montoro che sono le ramate famosissime quindi è la zona dell'Avellinese ma naturalmente possiamo usare le cipolle che preferiamo perché sappiamo che tutte le ricette di tradizione hanno mille varianti Certo quindi ognuno fa la sua di genovese Sì e non esiste quella giusta Diciamo che quello che possiamo dire è che in una vera genovese ci deve essere sicuramente la cipolla e sicuramente la carne Dopodiché quello che noi ci mettiamo Tu di quale pezzo? Allora naturalmente Perché anche sulla carne ci sarebbe molto da dire Sulla carne ci sarebbe molto da dire perché normalmente diciamo nella ricetta tradizionale si usa il lacerto girello che è una parte di muscolo comunque è una parte molto allenata diciamo quindi magra io personalmente appunto scelgo il muscolo proprio che è un po' più grasso e che rilascia quindi più sapore però io devo dire siccome prima si facevano questi sughi si facevano con la sugna quindi con il maiale e oggi non si usa più fare questi sughi con il maiale Quindi forse meglio un pezzettino un po' più grasso Io devo dire che metto non solo un pezzettino più grasso ma io devo dire che metto anche o il codino di prosciutto crudo quindi mi faccio dare in salumeria quel codino e lo uso oppure anche se uno ce l'ha un paio di salsicce che metto insieme al muscolo Io non utilizzo mai la carne della genovese per servirla perché devo dire che nei sughi sfruttati quindi sia il ragù che la genovese io preferisco utilizzare solo il sugo Poi naturalmente gli odori e adesso lo vedrete in sovrimpressione a questo punto per il ripieno oltre che la genovese avrete bisogno anche di un po' di provola e del parmigiano Perfetto Allora questi li possiamo spostare ritorniamo alla possibilità di pesare Come la facciamo questa? 200 più 100 o tutti e 300 di doppio zero? Io direi di farla mista In maniera tale che facciamo... Cioè il motivo per cui io faccio questo mix è che la salsa genovese è una salsa un po' rustica nel senso che è una salsa molto saporita Allora avere una pasta un pochino più porosetta un pochino più rustica una sfoglia che tiene più il sugo secondo me è più indicato quindi io ci metto anche la simola Ecco qui allora anche questa è fatta Ecco questa pure la possiamo versare quindi adesso qui abbiamo un rapporto di 2 a 1 Nel frattempo vedo che l'acqua bolle perché naturalmente dobbiamo essere pronti dopo vi diremo che cos'altro succede Allora intanto noi... E qui c'è il discorso che avevi specificato nella ricetta Cioè di utilizzare il tuorlo unico per questo quantitativo Sì Mentre l'albume lo utilizzerete dopo Sì assolutamente Poi vediamo per che cosa Io intanto sposto la bilancia così abbiamo più spazio Sì E ci andiamo a fare l'impasto naturalmente aggiungendo poco alla volta l'acqua Forse quella la possiamo anche diminuire un po' Ok Perché tanto non ci serve al momento Ecco qui Alessandra la domanda delle domande La genovese quanto deve cuocere? Allora la genovese è un piatto poi magari lo racconteremo un po' E la genovese va cotta molto lentamente Per quale motivo? Ci sono molti che per esempio lessano prima le cipolle Questa è una cosa che io naturalmente non faccio Assolutamente perché trovo che la cipolla vada consumata lentamente Quindi se dobbiamo consumare lentamente la cipolla Allora dobbiamo stare sul fuoco diciamo almeno 5-6 ore Ok 5-6 ore Invece per quanto riguarda questo impasto Qual è il momento diciamo in cui dobbiamo stare un po' più attenti Oppure non ci sono rischi e pericoli? No diciamo che non ci sono rischi e pericoli Naturalmente è un fatto di abitudine La pasta ormai fatta in casa diciamo pochi la fanno Perché effettivamente oggi si corre molto Si lavora molto Eppure è tanto comoda Eppure ho imparato sempre con la farina caputo E ora che ho imparato mi diverto moltissimo Ma sì ma tra l'altro voglio dire E' veloce E' anche un fatto un po' mentale Perché in realtà poi non ci vuole molto tempo a fare la pasta E noi lo vedremo perché la facciamo in maniera indiretta E' soltanto un fatto mentale Noi non siamo più abituati Mentre prima si faceva tranquillamente Per esempio io che ho una casa in Molise E che vado spesso chiaramente lì a mangiare fuori Devo dire che lì in tutti i ristoranti la pasta fresca si fa quotidianamente Ma proprio quotidianamente Alessandra spiegaci perché ti piace utilizzare anche un po' di semola Allora l'abbiamo detto che in realtà mettendo un ripieno Che è quello rustico diciamo di una salsa così saporita e corposa Come quella della Genovese Naturalmente se noi facciamo una sfoglia un pochino più rustica Un pochino più rustica è meglio Perché quella crea una diciamo un connubio con l'interno del raviolo Che appunto è la Genovese Secondo me è più idoneo Mentre una pasta una sfoglia fatta solo con la 00 risulta troppo delicata Nel senso che ci siamo quasi Quindi questa andrebbe adesso lavorata un altro po' o quanto più o meno La pasta fatta a mano va lavorata Va lavorata abbastanza Quindi diciamo che noi ci dovremmo stare qui ancora una decina di minuti a impastare Però dopodiché che cosa succede? Dopodiché bisogna farla riposare Perfetto quindi pellicola e frigorifero o temperatura ambiente? No, temperatura ambiente Per diciamo un'oretta per esempio? Sì, ma voglio dire anche se abbiamo meno tempo anche mezz'ora è sufficiente L'importante è non stenderla immediatamente Allora nel frattempo quindi la metterete a riposare un po' E noi ci spostiamo ai fornelli per raccontarvi qualcosina della Genovese Perfetto Che profumo quando si dice che la Genovese inebria con il suo profumo tutta la casa È proprio vero Alessandra ma questa Genovese poi lo diremo dopo perché sennò ti porto per altre strade Deve essere bella consistente perché va dentro al raviolo Ne parliamo tra un attimo perché ho un'altra curiosità E cioè ma perché si chiama Genovese visto che noi la facciamo a Napoli e quelli di Genova manco lo sanno che cos'è Allora si chiama Genovese perché l'ha scoperto in effetti un mio carissimo amico Fabrizio Mangoni che adesso non c'è più E che però era oltre ad essere un architetto era anche un appassionato di gastronomia Questa pasta con cui si faceva la Genovese che erano i Tria cioè erano degli spaghetti sostanzialmente secchi provenienti da chiaramente dal mondo arabo Perché sappiamo che la pasta viene da là A un certo punto regolamentati nel 1200 sotto appunto il regno di Federico II hanno detto che i grani e le paste dovevano provenire da Genovese Ci spostiamo di là perché ti vado a prendere quello che intanto ha riposato Sì prendimi la pasta perché ha riposato abbastanza e adesso ci stendiamo la sfoglia Eccomi qui Apro Vai le faccio fare a te Quindi un po' di farina sulla spianatoia nel frattempo la nostra acqua bolle vabbè ma c'è tempo ancora Abbiamo il tempo adesso ovviamente incominciamo a stendere una parte Che spessore deve avere? Allora abbastanza consistenza? Sì allora ovviamente anche questo è un fatto di gusto cioè chi preferisce una sfoglia molto doppia Infatti adesso appunto si trovano sfoglia sottile, sfoglia velo, sfoglia rustica Naturalmente qui c'è sempre lo stesso discorso Questo è un raviolo che contiene un sugo corposo E a proposito di sugo adesso forse lo possiamo dire quello che ti volevo far dire all'inizio Cioè che la consistenza della nostra Genovese deve essere bella insomma come dire asciutta Sì Compatta vedete? E qual è altro trucco possiamo dire? Allora innanzitutto dobbiamo cercare di prendere la parte superficiale e di evitare il grasso Perché naturalmente il grasso può far riaprire il nostro raviolo E poi la dobbiamo lasciare appunto molto con una consistenza quasi densa Senti qui vedo un aggeggino carinissimo che io non ho che adesso scopiazzando Questo serve proprio per fare il raviolone? Sì Questa è fantastica perché in effetti questa è fatta per fare un mezzo Sembra un po' dentiera invece Questo è fatto per fare un mezzo raviolo in realtà Però io lo adopero per fare il raviolo intero Adesso vediamo come si fa In questo modo Insomma facendo io un meccanismo che mi sono inventata da sola In effetti noi tagliamo il disco Sì Poi una volta tagliato il disco Quindi questo è il disco Sì Che poi Facciamo vedere bene scusa Alessandra Anche lo spessore Sì A parte la consistenza Facciamo un primo piano credo che si capisca no? Perché è bella consistente Però ha uno spessore Sì Non tanto Non tanto sottile Fatti questi dischetti Che cosa succede? Fatti questi dischetti Sì Siamo Ah ecco qui l'albume L'albume Quindi quell'albume che nella ricetta è specificato Anzi mentre lei continua a bagnare il lembo con l'albume Io ve la ricordo la ricetta Per fare questi ravioli Diciamo una dose per sei persone Sì Dovete prevedere 300 grammi di farina doppio zero del mulino caputo O in alternativa se piace anche a voi una pasta un po' più corposa Un po' più ruvida Utilizzerete 200 grammi di doppio zero E 100 grammi di semola Sempre del mulino caputo Un solo tuorlo L'albume non lo buttate via Ma conservatelo per la sigillatura Utilizzerete circa un bicchiere d'acqua Ma vi dovrete regolare voi E poi sale, pepe e quanto basta Allora adesso Ecco nel frattempo che cosa è successo? Abbiamo messo la genovese Chiaramente priva del grasso Sì E poi ci mettiamo il parmigiano E qualche pezzettino di provola Che poi ci darà molto sfizio quando lo mangiamo Una colina in bocca E adesso possiamo sigillare Solo da un lato? Sì basta È sufficiente solo da un lato Perfetto Quindi adesso prima lo chiudiamo un po' con le mani Giusto per creare una prima sigillatura E poi con questo agito maledetto All'incontrario Noi andiamo a sigillare meglio Riesci a vedere Stefano Sì grazie Perfetto Ecco Una volta che abbiamo sigillato tutto quanto Quindi basterà a premere Ah davanti e dietro Sì sì Lo facciamo tutte e due Così siamo certi che non si aprirà Questo non l'ho mai fatto Te lo devo scopiazzare questo fatto Sì No 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 Questo è fondamentale Perché in effetti se io utilizzavo questo No 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 Dovevo farne metà Ho capito No 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 Però funziona E invece E ce lo conserviamo Sì Tra l'altro questo raviolo andrà Quando lo impiattiamo è una bella porzione Nel senso che noi Ma sopra ci mettiamo un altro po' di dolore Allora noi Vabbè poi non lo svegliamo dai Non lo svegliamo Non lo svegliamo Dopo ve lo facciamo vedere Ve lo facciamo vedere Adesso intanto lo passiamo Facciamo prendere di nuovo il bollore Il bollore Poi magari ne facciamo un altro Ci metto un po' di sale Nell'acqua Sì sì grazie Intanto io ne faccio un altro Velocemente Così ne abbiamo un paio Ok E li caliamo Ma vedremo che insomma In effetti devono stare un tempo Veramente breve Perché sappiamo che le paste fatte in casa Cuociono Velocemente Naturalmente Se ne va tanta a Genovese Per fare questi ravioloni Perché il ripieno deve essere bello Ecco noi abbiamo dato Soltanto gli ingredienti Cipolla Carne Insomma Olio Sale Adesso non ricordo Magari lo rivediamo in sovrimpressione Per il ripieno Ma ci potresti dare anche un'indicazione Sulle quantità Per riempire ravioli per sei persone Quindi ne verranno quanti Una dozzina Io direi per esempio Questa è una Genovese Che è stata fatta con cinque grosse cipolle Di Montoro Con sedano e carota E con un fondo ovviamente Poi con dei pezzi di carne Cioè è chiaro E io con questo quantitativo Ne faccio molti di più di sei di ravioli Quindi se ne posso Diciamo che si può fare anche una piccola Genovese Non è necessario fare un quantitativo enorme Questa è la fase bellissima Guarda Mi piace molto Questa è la fase che ci piace assai Sì molto Perché si si Dopo ci voglio provare Posso provare? Come no? No anche perché poi lo voglio rifare a casa Ah ma questa si apre però Eh sì sì Oddio No no e si deve aprire Basta Dai non sembrava più facile Vabbè Sì l'importante È premere tanto Sì è premere tanto Ma soprattutto però non premere tutto Perché sennò poi dall'altro lato No certo Certo Allora adesso Va bene non è facilissimo Lei è brava Ok ci fanno segno che il tempo è tiranno Caliamo? Sì caliamo Pochi minuti di cottura E saremo pronti per assaggiare Da un pacco di farina doppio zero del mulino caputo A questo meraviglioso raviolo ripieno di genovese Lo ha preparato per noi Alessandra Calvo Ci ha raccontato tante storie bellissime Questa è non so che cosa è È una meraviglia Profumatissima le cornea per quanto mi riguarda Come l'abbiamo completato? Allora abbiamo lessato chiaramente il raviolo E poi lo abbiamo ripassato Saltato diciamo nel fondo del sugo della genovese Quindi tutto quel grasso che abbiamo evitato diciamo di mettere nel ripieno Nel ripieno c'è fuori Lo mettiamo fuori Li saltiamo ci aggiungiamo parmigiano Pepe E poi io per guarnire metto questa cipollina ripassata nella farina E fritta in chiaramente oreo di arachidi E dopo ci sistemo su questa cipollina Una meraviglia Allora facciamo così Questo adesso lo prendo io Non ti preoccupare Perché voglio darti dei regalini Queste intanto sono le nostre nuove scatole Le scatole del mulino caputo Tu potrai conservarci dentro Ma che belle Sono bellissime Le farine che quando il pacchetto è aperto c'è sempre un po' di problema E vedi poi c'è il richiamo al logo per i cento anni E quindi ti regalo anche il grembiule Sei una delle poche ad averlo Allora lo indosso Commemorativo per i cento anni di mulino caputo Ma che bello In realtà sono tutte cose che ti servono a distrarti Perché io vado ad assaggiare E voi se lo volete provare lo dovete solo rifare Alla prossima Arrivederci grazie Grazie